Eccoci qui per un estratto della prova che ho fatto in questo video. Per tutti coloro che non amano i video particolarmente lunghi e dettagliati vi dico subito che questo seghetto della Parkside 12V Team Performance è una vera bomba. Mi è piaciuto moltissimo sia perché per il prezzo ci offre tanta precisione ma anche perché ci offre una dose di potenza che sinceramente non mi aspettavo. Un elettroutensile che consiglio particolarmente per i lavoretti molto molto arzigogolati, per le curve molto strette e per la lavorazione di tutti quei materiali che magari non sono così semplici da trattare con il comune seghetto ad arco che siamo abituati ad usare sin da ragazzini o da bambini. Ecco questo è il seghetto perfetto per il vero amante del fai da te ad un prezzo tutt'altro che alto. Amici ed amiche di Unbox benvenute e benvenuti sul mio canale per l'ennesimo spacchettamento. Mi raccomando iscrivetevi e lasciate un like come sempre sulla fiducia andiamo subito a vedere questo seghetto alternativo oppure seghetto a pendolo della 12V Team Performance Parkside. 5 anni di garanzia, modello Palermo Palermo Savona Torino K Ancona 12A1 quindi è una prima serie dal prezzo di più o meno 29,90 quindi un prezzo irrisorio per quello che è un seghetto molto molto ben fatto e ben disegnato che può funzionare con batterie da 4 o da 5 ampere. Diciamo che queste sono le batterie consigliate. Io penso e suppongo che possa tranquillamente funzionare anche con quelle da 2 però insomma è sempre meglio farlo funzionare con delle batterie appropriate. Seghetto brushless fornito senza batteria perché per l'appunto vuole avere un costo molto più limitato rispetto ad un utensile completo di batterie e caricabatterie con la feature del Constant Power Control. Quindi abbiamo questa diciamo funzione che mantiene il controllo della velocità costante per farsi di avere dei tagli assolutamente puliti. Abbiamo in dotazione la solita spondina come potete vedere per fare dei tagli dritti e abbiamo anche due lame Swiss made quindi le lame sono fatte in Svizzera. Andiamo con le caratteristiche abbiamo un numero di giri che arriva a 2800 con una corsa di 20 mm quindi 2 cm di corsa, una profondità di taglio massima di 70 mm nel legno e 15 mm nell'alluminio. Sapete che più o meno possiamo usare le stesse lame per il legno e per le leghe di alluminio e poi abbiamo due diverse modalità di funzionamento ovvero abbiamo soltanto la corsa verticale e abbiamo anche la corsa verticale più l'oscillazione per tagli più grossolani ma anche più rapidi. Solita valigetta in plastica della Performance scritta fatta benissimo curatissima il materiale come vi cambiata la mescola abbiamo una plastica molto molto migliore. Andiamo a vedere le solite cerniere in plastica pressofusa stampata e pin in acciaio e poi davanti solita manopola o maniglia in plastica durissima vuota e poi le nostre bellissime chiusure semilucide zincate. interno della valigetta davvero davvero semplice con un piccolo pamphlet informativo con il modello della macchina e il pdf online qr code quindi andiamo a scansionare questo per avere le informazioni direttamente sul nostro cellulare all'interno come potete vedere vari spazi per raccomodarci batterie ma anche il caricabatterie in caso dovessimo portarci solo questo signorino qui a fare un lavoro magari fuori sede o fuori casa o fuori dalla nostra officina hobbistica. Sulla parte superiore della valigetta troviamo la nostra guida di taglio in acciaio lucido molto ben fatta come vedete abbiamo incisa una scala numerata che va da 0 a 16 centimetri all'interno della valigetta come promesso sulla piccola scatola di cartone abbiamo le nostre lame speed wood della parkside la prima e flexible metal la seconda come vedete la flexible metal è molto più piccolina perché se andiamo a tagliare il metallo quindi per esempio l'alluminio o il ferro abbiamo una corsa che va ad essere sempre la stessa ma possiamo tagliare una quantità di spessore un pochino più limitata alla fine dei conti parliamo di 12 volt fino a circa 2800 giri si è un bel mostriciattolo ma non stiamo parlando di un attrezzo che possa tagliare qualunque cosa dobbiamo comunque utilizzarlo con criterio alla fine è un attrezzo hobbistico è un power tool che diciamo viene a costarci circa 29,90 poi si aggiungiamoci la batteria il caricabatterie quello che sia però ecco rimane un attrezzo hobbistico che secondo me va usato per l'appunto con coscienza ed eccolo qui in tutta la sua bellezza finalmente possiamo andare ad analizzarlo io smonterei subito la parte che forse utilizzerò meno che però vi faccio vedere ugualmente questa bocchetta di aspirazione in plastica che serve per l'appunto per aspirare le polveri e i truccioli diciamo della lavorazione altra copertura in plastica questa qui assicurata con delle viti philips al nostro piatto piede di taglio piatto di taglio insomma fatto in metallo sul lato troviamo la plancia di controllo con il lucchettino e il piccolo tasto power e poi le indicazioni sull'oscillazione 0 1 2 3 più andiamo a far funzionare l'oscillazione con questa leva di plastica molto clicchettosa e più il taglio sarà rozzo ma veloce quindi se vogliamo un taglio che sia diciamo così davvero preciso la manteniamo sullo 0 e facciamo in modo che ad aiutarci nel taglio sia soltanto la velocità la velocità che noi andiamo a regolare sulla testa a botte di questo seghetto alternativo tramite questa rotella a scatto come vedete abbiamo le sei velocità dall'uno alla sei clicca molto molto bene funziona davvero bene questo tipo di seghetti con la presa cosiddetta a botte almeno in anglosassone così mi hanno insegnato a chiamarla sono dei seghetti che per me sono assolutamente essenziali e molto semplici da usare per i tagli particolarmente arzigogolati e con delle curve oppure degli angoli particolarmente stretti di gradazione quindi per la classica curva a 90 oppure per il classico angolo a 25 a 30 gradi che dobbiamo fare assolutamente perché altrimenti che ne so io la piastrella in pvc non entra nello spazio designato ecco questo tipo di attrezzi secondo me sono impareggiabili andiamo a vedere l'altro lato come vedete abbiamo la doppia plancia di controllo e il solito sticker della parkside un adesivo con suscritte insomma le sue specifiche andiamo anche a vedere la data di manifattura questo qui è di giugno 2024 sempre su questo lato andiamo a trovare la funzione per l'aspirazione e poi la nostra chiavetta esagonale che ci aiuterà a smontare il piedino sul retro abbiamo la sezione per incastrare la nostra batteria io andrò a provarlo con una batteria da 5 ampere l'incastro è sicuro e funziona perfettamente diciamo che ha un gioco di circa mezzo millimetro niente di eclatante niente di fastidioso anche se devo dire che sugli altri diciamo così elettroutensili della performance 12 v team addirittura il gioco è stato ridotto allo zero su questo c'è un pochino di gioco e adesso veniamo alla parte più bella ovvero la parte frontale dove abbiamo questa piccola paratia in plastica trasparente che si può spostare da un lato all'altro e che ci serve tra le altre cose per azionare il cambio lama che vedete avviene molto velocemente tramite questa clip di metallo questo vero e proprio mandrino di metallo che serve a reggere la lama qui abbiamo la guida su cuscinetti e sul piatto abbiamo una parte aggiuntiva in acrilico con una freccia rossa per seguire il taglio proviamo a vedere quanto semplice o difficile possa essere andare ad inserire una lama vediamo se possiamo farlo senza azionare la clip direi di no proviamo a farlo azionando la clip assolutamente molto semplice vediamo se schizza via oppure se la devo estrarre ecco viene diciamo così attivata una specie di propulsione che fa uscire la lama però niente di pericoloso e niente di eccessivo in altre versioni di questi seghetti della parkside e non esiste un meccanismo di propulsione che fa uscire le lame dal mandrino molto molto più forte e decisamente pericoloso in questo caso non lo è assolutamente morbido ed indolore molto ben fatto guardiamo dall'alto l'ultima parte del nostro piede il piede di taglio può essere arricchito da quella sponda o spondina in acciaio che vi ho fatto vedere prima che va a infilarsi semplicemente in questi due scassi e può essere assicurata alla macchina tramite questi due piccolissimi vitini di serraggio ecco hanno un piccolo pezzettino di plastica che funge da testa o da manopolina e poi sono assicurati tramite una molla che fa sì che non si possano muovere più di tanto e non possano uscire dalla loro sede in maniera incontrollata tramite le vibrazioni del taglio batteria piena 5 ampere velocità 1 come vedete ha anche una funzione per far sì che con la doppia pressione del tasto on continui a funzionare senza dover premere il tasto on ma potendo semplicemente appoggiare la mano sulla testa a botte velocità 2 velocità 6 molto 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 rumorosa non eccessivamente rumorosa rispetto agli altri attrezzi di questo tipo è un elettro utensile assolutamente nella media a mio modesto avviso quello che mi piace è che è quasi totalmente primo di vibrazioni durante l'utilizzo della velocità 6 riesco infatti a tenerlo appoggiato al banco e non fa nessun tipo di rumore ve lo faccio risentire come vedete non ci sono vibrazioni eccessive come vedete non ci sono 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 non ci sono non ci sono non ci sono taglio effettuato anche sul pallet da 20 ho provato un po' di tagli arzigogolati un po' di tagli semidritti un po' di tagli in diagonale per vedere come mi trovavo quando mi avete visto spostare la manetta sono andato sull'oscillazione verticale più orizzontale devo dire che sinceramente mi trovo meglio senza i tagli anche sul pallet da 20 vengono meglio con la semplice oscillazione solo verticale non ci sono quando il materiale si fa ancora più tenero però ugualmente un materiale di qualità a livello strutturale come può essere il multistrato il nostro seghetto il nostro seghetto va a dare davvero il meglio di sé vedete come sono pulite le curve come è pulito il taglio io sto lavorando in una posizione davvero in fausta lo avrete notato perché ho la telecamera in mezzo e mentre lavoro non guardo il pezzo ma guardo il monitor quindi un casino di quelli speciali però il taglio nonostante tutto viene molto bene persino per uno come me che di questa roba non se ne intende e si sta avvicinando al fai da te amici ed amiche di unbox io prima di farvi un saluto vi dico questo ieri sono stato a savona sono andato a trovare amici sono andato alla lidl c'erano ancora 20 30 pezzi di questo meraviglioso seghetto della 12 v team performance so che non è andato a ruba io non ci guadagno niente a dirvi ciò però secondo me ci guadagnerete voi ad acquistarlo recatevi nelle vostre lidl di fiducia è molto probabile che ne abbiano ancora per essere un 12 volt e per costare 29 90 secondo me è tanta tanta roba non è andato a ruba ce ne sono state tante edizioni verdi ce ne sono state tante edizioni nere 20 v team questo qui è davvero molto buono e secondo me vale il vostro tempo e il vostro denaro se volete andarvelo a comprare sono certo certissimo che in molte lidl locali ce ne siano ancora tanti come a savona un saluto ed un abbraccio da unboxo buona settimana